si, ti dà ahhhh penso che sono piccane non ci credi che sono massimo tocca a noi svegliati guarda che non mi stavo sforzando stavo solo stendicchiandomi stendicchiandomi stondi per una buona giornata stendicchiandomi caffè caffè va bene ciao a tutti bello a tutti ragazzi sono non conosci nemmeno la mia intro e ragazzi sono vivete bello ragazzi sono vivete bentornati in questo nuovo video in compagnia di Alewee bentornati in questo nuovo video sono in compagnia di Alewee ma che cazzo ci segui oggi questi giochi di nuovo secondo me è la cipolla è la cipolla che è proprio quello evaporato oggi via ragazzi oggi sono canale web perché oggi ci farò vedere come si gioca a minecraft anche più che farci vedere come si gioca a minecraft tu ci farai vedere quanto si porta a minecraft quante forti le web a minecraft lo direte voi mi stanno chiamando da una 10 vieni qua e non andare via perché assolutamente oggi sei messo alla prova e dimostrare a tutti che sei veramente una pro pvp guardate il muscolino per iniziare ho un bellissimo cps test per vedere quanti cps sai cos'è un gps test no? si guarda prendi si si devi farli guardi guarda tu sei pronto lo sai prendi lì chi parte del tempo vai se ti prometti sei la coscia mezzo che sia come possibile ok vai 3,2,1 non stai clicandola 2,7 gps provando a battere l'anessandra cps piacere abbiamo sbagliato e sport chiusurre cazzo va a giocare fitti devi giocapre tu che seg Safety faccate palazze questo infatti i una specie di pvp praticamente tu clicchi qua vendi i tuoi kids e poi ti lanci la mischia però attendo magari a quelle in domande perchè quelle in domande sono fortissimi e muori siccome tu però so che si porta tu giustamente non avrai questi problemi e ci sono le temani dai Alessandra vado a vedere cosa stai fare dai qui a Trump House andrevati anche tu vuoi fare il canale è ancora il mio non l'ho venduto che devo fare gioca ma spesso spesso polizia aiuto aiuto sono con una scema salvami ti prego polizia non fa niente che devo fare clicca kit pvp quello kit pvp quello è il signore ti sei puntata senza niente no no non ci bacia amici io spesso io spesso sono io come risolvo vai così vedo poco premi kit pvp che devo premere? kit pvp attendo al canabiniere dov'è questo kit pvp? non lo so non lo devi ti do la guaccinella del cervellino però ha sbrocchiato c'è il suo varetto di caldo nella mia stanza ci sono 3.000 gradi non c'è la condizione non c'è niente no non ne stimo no ehi 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 oh devi guardare il permesso prima di vingere però non vede dove sei? sei qua? ma cos'è questo? vai vinci vai kit pvp lo fai kit pvp? guarda ma lo cerchi tu seleziona? no guarda vadoci vedere vai qua sono sudatissima che bello e clicca qua col tasto destro vedi qua che c'è scritto sul cartello clicca sul cartello col tasto destro aspetta aspetta no cosa hai fatto? il primo ah ok lei presso le presso le presso vai 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 ucciditi tu c'è questa cosa mi cade questo si chiama microfono serve per parlare mi piace mi cade vai vai uccidilo uccidilo i piedi fermi ma 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 che insensibile che sei il muro no no tu tu calpisci il muro come se io voglio picchiare te e 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 d'inglese ok ragazzi siccome abbiamo capito che lei nel pvp a 0 prima a fare la beta semmeno devi rompere lecce e e e dai noi ci proviamo alle web mi raccomando entriamo in un team sceglie il colore vediamo che colore ti piace il giallo secondo te indovino blu e rosso ti indovini sei il mio ficci blu sbagliato sono entrato nel giallo prima però lo so che posso però io proprio non voglio dominare in questi casi come devi giocare stiamo giocando a mine grazie si stiamo uccinando nel mattino e dolce stiamo giocando ok di giocare le best giocare le bad ma insegna il meglio ti do un pugno non sai giocare le belle vai iniziata che devo fare allora allora devi prendere prima i materiali non ti buttare pigli i materiali vedi c'è quello scolettato guarda pigli i materiali qua no? no ah che schifo allora poi vai dalla scimmia cocco vai dalla scimmia cocco cici ciao scimmia cocco vado tu quando arrivi a letto non lo faccio io ok? no 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 raccomandazione non vale dei giocareture ma se io voglio la fricchi frochi che è la fricchi frochi la spada senza spalla dolce four lo faccio io alessandra c'èто vedere come si fanno i ponti chi è bloccato mi sa che ti hanno superato ah buono finora veloce un attimo è che mi mando i tue mouse non è che non lo so fare quello che ho messo qualcosa vi strozzo di nuovo Anzi lo sto facendo Ma non è la spada Non serve le mani Dai dai segui Fricchi Frocchi Vediamo dove va La spada era Fricchi Frocchi Tu sei Fricchi Frocchi Ha chiuso Minecraft Non ci credi Ha chiuso Minecraft Ci fa 100 like Nuovo video Questa signorina Ti sto ingornando Ti sto ingornando Nuova Favij Fai come Favij Non lo so come fa Tipo Bella ragazzi sono Favij Bella ragazzi sono Favij E bentornati in un nuovo video Ma sei sola? Chi c'è la saluta la? No no dico c'è una serie Non ce ne saluto nessuno Devi improvvisare Ah ok Oggi Sono qui Con voi In compagnia Mi sta stonando Sto con Ti sto stonando la sconfia staccata Insomma Bisogna Bisogna Rimbumpare Oggi ragazzi Sono in compagnia di sedio Sì 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 Ho finito il giocare Sì Ho finito il gioco Mai vinto Ho finito il gioco Mai vinto si chiude Perché Ho finito Brava 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 Ragazzi spero di questo video Super intelligente Super di cultura Super tutto Vi sia piaciuto Lasciamo 100 like per nuovi Alessandra Vai Il codice fiscale Qual'è? Il codice fiscale Qual'è? Il codice fiscale Qual'è? Qual'è? Il codice fiscale su Youtube Quasi scena Spero che il video vi ringrazio tutto Lasciate 100 like per un nuovo video Poi condividete Lasciate un like per un nuovo video E ci vediamo al prossimo video Ciao Se non lascio i like Se vi è una prossima Ciao Se non lascio i like Quasi quasi Cool